Ciao cari amici, spesso quando noi comunichiamo, quando io leggo alcune domande, alcuni approfondimenti, quando qualcuno condivide le proprie opinioni, io mi imbatto spesso nella tematica di governo universale. Molti dicono che c'è un grande governo universale, che c'è un gruppo di persone che gestisce tutto. A volte anche io spesso utilizzo un simile termine quando parlo di oligarchia, per semplificare, per non entrare nelle questioni troppo difficili, troppo complicate. Ma come ci insegna il Faust di Goethe, con le parole di uno dei protagonisti, diciamo, più interessanti, ovviamente dal punto di vista di approfondimento nell'anima del male, il Mephistofile, lui in certo punto dice io sono colui che è venuto per semplificare le cose complesse. Per cui il grande lavoro del diavolo, del demonio, rappresentare le cose complesse, che vanno approfondite, studiate, vanno ovviamente viste nei tutti i dettagli, in tutta gamma di colori, non solo bianco e nero, ma anche in tutte le sfumature di varie colorazioni. Tutto questo diavolo vuole rappresentare come una semplicità, ovviamente diavolo dal punto di vista metaforico. Chi non crede in Dio non crede ovviamente nel diavolo, io non voglio qua fare a nessuno sermone religioso, però il diavolo in grande linea è anche un pensiero, è anche un'idea, è anche una specie di individuo della nostra psiche, cioè la parte della nostra individualità. C'è dentro ognuno di noi, come c'è dentro ognuno di noi anche Dio, anche la parte buona, se noi vogliamo vedere ovviamente questa cosa non dal punto di vista nettamente religioso-teologico, ma dal punto di vista laico. E in questo senso, quando si parla di cose complesse, bisogna approfondire. E approfondire è complicato perché spesso è necessario di tirare in ballo molte situazioni, bisogna documentarsi e giustamente gli approfondimenti, come a me e alcuni mi scrivono, Nicola, ma perché tu fai i video così lunghi? Ma perché tu non vuoi spiegare le cose in maniera molto semplice, molto veloce? Cari amici, in maniera molto semplice e molto veloce vi spiegano le cose, quelle che vi vogliono reggerare, vogliono prendere in giro, vogliono strumentalizzare la vostra opinione. Perché se qualcuno a voi dice che il problema dell'Ucraina è perché Putin si è sediliato una mattina e ha invaso un paese indipendente, vi sta prendendo in giro. Vi sta prendendo in giro e vi sta danneggiando la vostra opinione. Quindi chi sostiene questa, non è opinione, ma questa è una linea propagandistica, io la chiamerei, perché non fa parte dell'opinione, l'opinione si fa in base alla realtà oggettiva. Chi è minimamente dotato di intelligenza, di capacità di approfondire materiale storico, può comprendere facilmente che la guerra in Ucraina non è iniziata il 22, diciamo quando Putin ha invaso nell'anno 2022, quando lui ha invaso l'Ucraina e tutto il mondo improvvisamente ha scoperto del fatto che un cattivo dittatore ha messo i piedi stivali militari su un povero paese che vuole soltanto essere indipendente. Chi è in grado di affrontare la situazione comprende che dietro ci sono stati tutti lunghi anni di deterioramento dei rapporti politici, provocazioni, attentati terroristici, abbattimenti di aerei civili, ad esempio il primo aereo civile. Io non smetto mai di raccontare i fatti, i fatti che molti nostri esperti, molti nostri propagandisti non vi vogliono far sapere, però ad esempio quando parlano del fatto che l'aereo lì malesiano è stato battuto dai russi, io non so com'è andata, ho la mia idea, però dal punto di vista di ricidività di un comportamento si può dire che i russi non hanno prima mai abbattuto gli aerei civili, gli aerei civili hanno abbattuto gli ucraini e hanno fatto proprio che un aereo russo, io vi ho spiegato e vi ho raccontato nel 2001 è avvenuto questo caso, è stato fatto apposta per provocare la Russia a una reazione negativa all'epoca, Putin ha ingoiato questa situazione perché era il momento in cui Putin appena diventato presidente. Era chiaro che l'amministrazione occidentale ha capito da quale parte lui sta iniziando a portare il paese, che lui non sarà come Yeltsin, non sarà un fantoccio, non è stato controllato dalle oligarchi, Birisovsky, Abramovich, Gusinsky, tutti quelli che inizialmente sembravano di essere i suoi manipolatori, molto veloce si sono trasformati nelle sue vittime, lui li ha fatti fuori, uno in maniera diciamo economica, intelligente, perché Abramovich ha capito subito tutto, ha dato una parte di quello che le apparteneva al governo russo e in cambio lo hanno lasciato andare e vivere, Birisovsky è stato ammazzato perché lui ha provato di fare fenomeno e fare la guerra al Putin e al suo governo, ovviamente sbagliando, perché tu puoi essere oligarca, puoi essere partito dalla regina, puoi nasconderti sotto la sua gonna ma non puoi fare la guerra, ha una struttura statale, perderai, poi soprattutto ha una struttura statale come quella russa che ha le risorse inesauribili, ha molti più soldi di te, tu puoi essere anche sfondato di denaro, non arriverai mai a quel livello in cui si trovano queste persone, quello è un vero potere, tu sei uno che si aggira attorno, Birisovsky non ha capito, morto, Gusinsky anche lui ha provato di fare furbo, scappato in Israele, anche lui finito malissimo là, neanche Mossad lo ha protetto. Quindi in questo senso quando noi mettiamo in conto ciò che è avvenuto in Ucraina, noi dobbiamo guardare tutti gli eventi precedenti, questo vuol dire studiare una questione nella sua complessità, ciò che da noi purtroppo nessuno fa. Da noi oggi se voi andate a qualsiasi pagina di vari finti esperti, di quelli che sputano sulla telecamera mentre vi parlano, quelli che odiano, quelli che condividono le cose semplificate, cioè i russi sono bestie, i russi da sempre sono comportati così, hanno voluto da sempre conquistare l'Europa, ecco Putin cattivo dittatore, lui nel suo paese gestisce tutto in maniera disumana, i russi sono scontenti, lì c'è un'aria terribile, in effetti tutti quelli che vanno in Russia dicono il contrario alla fine per qualche motivo, però comunque qua si raccontano delle bagianate, bagianate propagandistiche basate sulla brutale semplificazione di una situazione complessa. Per questo motivo, cari amici, quando io racconto certe cose, i miei espliciti a chi mi ascolta, qual è il mio punto di vista innanzitutto e anche quali sono le basi del mio ragionamento, cioè se io vi dico che io penso che lo Stato ucraino è uno Stato terrorista, io vi spiego per quale motivo, perché quando nel 2001 è stato battuto aereo russo che andava da Israele in Siberia, a Novosibirsk, è stato battuto sopra il Mar Nero, tutti sono morti, non si è salvato nessuno, è stato abbattuto con un missile di antiaerea ucraino, questo è stato confermato da tutti specialisti, tutto sicuro, questo è un comportamento di uno Stato terrorista. Qua non si tratta di rappresentanti del paese che non sapevano che sono andati lì, sono terroristi, hanno preso l'aereo, lì si potrebbe dire sì, sono singoli, che c'entra il governo, che c'entra lo Stato ucraino, no, qua c'è stata un'azione voluta dai responsabili politici dell'Ucraina. Da sopra hanno dato l'ordine di abbattere aereo, ovviamente gestiti da americani e da anglosassoni, perché volevano, speravano che Putin risponderà a questa provocazione con le forze militari, con l'intervento militare, lui era già indebolito dalla guerra in Cecenia, ovviamente gli oligarchi occidentali amano spesso rovinare la situazione del nemico, dell'avversario, organizzando più guerre, più problematiche sul suo territorio. Quindi loro all'epoca sovvenzionavano i gruppi terroristici wahhabiti che, come ricordate, negli anni 90 e fino a metà degli anni 2000 hanno distrutto la Russia, tutti noi ricordiamo Beslan, Beslan cos'era? Beslan erano i terroristi islamici non assolutamente legati al vero Islam, sono una vergogna, chi pensa che loro sono veri musulmani ovviamente sta sbagliando. Loro sono stati pagati e organizzati intanto dalla CIA, perché sono stesse persone che hanno creato l'Isis, stesse persone che hanno creato talibani, stesse persone hanno investito i soldi nei questi personaggi e poi questi personaggi hanno fatto la strage a Beslan, hanno ammazzato bambini, hanno fatto un casino. Strage a Dubrov che ricordiamo a tutti, famoso teatro Nord-Ost e tutto ciò che succedeva. Quella era l'inizio dell'epoca di Putin che l'Occidente cercava di stroncare, di mettere in difficoltà attraverso l'organizzazione di guerra e di terrorismo sul suo territorio. E l'Ucraina già all'epoca si è contraddistinta. E io per questo dico serenamente che l'Ucraina è uno stato terrorista, ma già dall'epoca, già da quei tempi lì. Proprio perché nel suo complesso amministrativo ci sono persone che non seguono l'interesse degli ucraini, non seguono l'interesse dello Stato, ma seguono gli interessi personali, sono pagati, però agiscono attraverso le strutture dello Stato. E quindi se vi arriva un missile lanciato da un sistema di antiaerea serio, può essere Buk, può essere un sistema come S200, come quello che ha abbattuto l'aereo russo, nel 2001 si tratta di uno Stato terrorista. Per questo motivo, amici, non bisogna mai semplificare le cose, sempre andare a fondo e capire le situazioni in tutta la loro complessità, anche se doloroso, difficile, ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Io dico a tutti, ragazzi, non cercate le soluzioni facili perché non esistono. Se arriva un farabutto che su YouTube o su Telegram o su altri supporti vi dice io in 5 minuti vi spiego la situazione in Cicena, balle. In 5 minuti la situazione in Cicena non si può spiegare. E non si può spiegare neanche in 10 minuti, neanche in un'ora e neanche in due ore. Ci vuole un sacco di tempo per spiegare bene la questione in Cicena. Tra l'altro molto complicata. Stessa cosa ovviamente su tutto il resto di situazioni. Quindi quando noi parliamo di una questione così complessa come il governo mondiale o il potere assoluto. Molte persone cominciano a parlare di club di Bilderberg, la commissione trilaterale, il Rothschild. Insomma cercano di creare un bouquet di varie situazioni al limite tra realtà, invenzione, oppure anche molte situazioni reali ad esempio sono state trasformate nelle teorie di complotto per due motivi. Per la mancanza di informazione e per la mancanza di capacità analitica di chi in buona fede cerca di divulgare certe informazioni. E ovviamente è molto complicato poi dopo seguire queste situazioni. Io da quello che ho compreso studiando da anni la questione di potere nel mondo, io ho compreso che il potere innanzitutto non è unitario, non è unilaterale e non è sempre stesso. Si tratta di una categoria di persone, soprattutto si tratta di famiglie. Sono famiglie in alcune zone, sono famiglie antiche come ad esempio in Europa, sono grandi famiglie, grandi investitori, famiglie degli industriali, famiglie nobili. Sono quelli che regnavano, quelli che hanno accumulato il potere, sono entrofolati dappertutto, hanno le mani ovunque e loro sempre dietro a qualcosa. Poi ci sono grandi fenomeni come i nuovi sistemi finanziari, multinazionali, grandi strutture transnazionali. Tutta questa situazione fa parte di un equilibrio di elite. Non c'è una persona che governa, non c'è neanche un clan che governa. Sono tutti che fanno parte di una grande categoria dei potenti che tra di loro lottano per il potere, ma che seguono una serie di regole di base. Innanzitutto la prima regola che per entrare all'interno del loro potere bisogna provenire da quel luogo o attraverso le dinamiche familiari o attraverso straordinari proprietà personali, capacità personali. Non fanno entrare mai un politico, per quanto sia un grande personaggio, sfrutteranno sempre come i fantocci. Per questo i potenti non si trovano a governare il paese effettivamente. Chi governa i paesi, i politici, i amministratori sono i clerk di questo sistema. E poi questo sistema ovviamente ha interessi vari, ha provenienze varie e agisce in maniera diversa. Quindi ad esempio molti parlano di Bilderberg e di commissione trilaterale che sono ormai cadaveri che la gente ha scordato di seppellire, non hanno una grande influenza. Loro sono stati creati dopo la fine della seconda guerra mondiale e avevano una particolare funzione. Il club Bilderberg doveva unire le elite anglosassone con le elite europee del nord Europa, germaniche e italiane. Ad esempio, famiglie Agnelli, che giustamente durante la seconda guerra mondiale sosteneva il fascismo e anche il nazismo. Oppure una serie di grandi famiglie, grandi industriali, grandi banchieri tedeschi. Loro sono rimasti potenti anche dopo il crollo del Terzo Reich, che era il loro progetto comune, e dovevano in qualche maniera allearsi con gli anglosassoni. È strano, ma alleanza tra gli anglosassoni e i rappresentanti dell'elite del potere nord europea è avvenuto attraverso i capitali ebraici. Questa è una storia molto interessante, se volete in un video la approfondisco di più. Adesso la tocco così in modo magari anche per incentivarvi a leggere, ad approfondire questa storia. Però in questa fase è stato fondamentale il Kleb Bilderberg. Kleb Bilderberg era un modo di riunire le elite occidentali dopo il crollo del Terzo Reich per evitare che all'interno della loro classe avviene una spaccatura. Le hanno risanati con i soldi degli ebrei. E questa nuova forma ha cominciato a vivere, ha cominciato a funzionare, e dopodiché Kleb Bilderberg è diventato semplicemente una cosa di apparizione. Lì non raccontano niente di nuovo. La struttura molto più interessante di Kleb Bilderberg è ad esempio l'associazione delle isole. È una cosa molto stranissima, io vi invito ad approfondire. Lì si fanno le cose molto interessanti. Lì ci sono le organizzazioni, le persone, le famiglie di una grande potenza, di un grande potere, potere finanziario, potere politico, potere rappresentativo. Questa gente veramente appartiene alle classi più alti dei sistemi di potere che oggi abbiamo in Europa. Il Kleb delle isole sembra una scemenza, ma è una cosa in realtà molto importante. Fa parte del meccanismo del potere oligarchico. E poi ci sono diverse strutture. Comunque come funziona tutto questo grande blocco? Non c'è un governo unico, non c'è un governo mondiale. Ci sono le élite, la loro classe, che insieme si riuniscono. Non sempre si vogliono bene, come ho detto io. Loro sono uniti soltanto da una serie di regole che esclude gli altri dalla loro società. Le regole all'interno di questo gruppo di élite servono per non far entrare gli altri. Cioè il 99% degli esseri umani sono fuori dalla potenza di queste cinquantina di famiglie, cari amici. Non si tratta di una vastissima, non so, rete. Sono 50 famiglie strapotenti in Occidente, ovviamente, io intendo. E poi ci sono nel mondo vari enclavi, vari importanti gruppi etnici, come ad esempio i libanesi. I libanesi sono un gruppo di potere molto antico, molto forte e resistono da tanto tempo. Quindi, in grande linea, cari amici, la struttura di questo classe di potere funziona per escludere gli altri e per dettare al resto del mondo la propria dinamica, dinamiche della propria crescita. Cioè voi dovete fare così perché noi vogliamo crescere in questo modo. Tutto qui. Amici, se volete approfondiamo un giorno questa cosa e fatemi sapere se il tema vi interessa. Intanto io vi mando un forte abbraccio, vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi ricordo se voi volete, se vi è piaciuto questo video, se volete potete commentarlo, potete condividere questo video con i vostri amici. Vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Voi potete trovare nella discrezione a questo video il link a questo canale. Su tutte le librerie d'Italia c'è il mio nuovo libro che si chiama La guerra e l'odio, un libro che racconta le origini della guerra in Ucraina. Leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate. Amici, vi mando un forte abbraccio e vi voglio bene.